salve oggi parliamo di un argomento molto importante la religione ma o meglio il fondamentalismo religioso che esistono in alcune religioni in quella cattolica ovviamente no almeno negli ultimi anni anticamente c'era e c'era un fanatismo anche per la religione cattolica e quindi sono state persone torturate nel passato in nome della religione ma in nome della religione abbiamo visto anche le guerre sante le distruzioni di villaggi di arabi in al grido di dio lo vuole avete visto vari film sulle crociate intorno all'anno 1000 ebbè sono reali quei film ripropongono ripropongono quello che accadde mille anni fa mille e più anni fa con le guerre sante in effetti poi la realtà è sempre la stessa il filo rosso della storia ed economia ma comunque con la scusante religiosa si sono commesse dei dieci e si continuano a mettere a seconda poi della della religione i musulmani crea 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 sgozzano come agnelli persone che reprono infedeli gli ebrei stanno creando problemi in palestina e già l'hanno creato quindi il fondamentalismo religioso noi avevamo l'inquisizione l'inquisizione spagnola quella proprio molto famosa dove venivano appunto perseguitati gli ebrei venivano uccisi torturati quindi non si tratta di essere razzisti perché si ebrei contro gli ebrei contro un gruppo contro gli italiani contro gli arabi si tratta che loro stesso che professano esercitano una religione in modo così esagerato e così fanatico da fondamentalista da veri ortodossi come gli ortodossi ebrei il shiradi i shiradi o haradi che stanno in aumento ho letto appunto poco anzi ho visto un servizio su internet dove sono in aumento e coloro che non potrebbero fare a meno della terra santa secondo le scritture antiche del vecchio testamento e quindi sono andati in palestina ma l'anno se ne sono appropriati con maniera fraudolenta adesso ci sta addirittura netanyahu che è un nazista perché va perseguitando perseguita il popolo povero palestinese e si sta comportando come i nazisti si comportavano con lui quindi come vedete si è nazisti quando si comanda e si ha potere di vita o di morte su una popolazione indipendentemente se si è tedeschi di nazionalità se si è ebrei e gli ebrei si sono comportati come nazisti e dettagli anche dagli stessi ebrei è stato tacciato di essere un dittatore quindi un criminale per cui perché questo argomento oggi è proprio per tenervi per essere distanti e essere chiaramente abbastanza attenti guardinchi da qualsiasi credo sia religioso sia politico e ma sia anche in altri campi noi abbiamo il 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 fanatismo e quando si crede in qualche cosa o ora il fanatismo che fa alla fin fine meno male è anche quello sportivo se uno è tifosi di una squadra è un campanirista e quindi di quella propria squadra di quella propria città o non faccio i nomi si può essere dell'uno dell'altra squadra l'uno dell'altro club anche gli stranieri la stessa cosa sono dell'uno dell'altro club straniero sia inglese sia olandese sia tedesco spagnolo e portoghese si è in quel caso fundamentalista che non si ammette critica cioè la propria squadra ha sempre ragione ma fin quando è sportiva si può avere qualche scazzottiata presi a cazzottiata a volte poi se si ubriachi e abbiamo visto pure delle 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 scene che non vorremmo mai più vedere ultimamente gli origano a napoli qualche anno fa che hanno combinato l'anno scorso quindi o hanno divassato monumenti a roma alcuni tedeschi quindi le tifoserie quando stanno in gruppo ma sia soltanto in alcuni casi si possono si possono benissimo poi contenere mentre il fanatismo politico specialmente quello di cinistra specialmente quello comunista che che crea appunto pare che adesso sia un pochino scemato in tutto il mondo ma negli anni 60 con Mao Zedong specialmente in Cina ma anche negli anni 30 con Stalin ha creato dei danni e degli ecidi fucilazioni sulla popolazione ricordo il calodoborro l'olodomorro come si dice olodomorro colodomorro in Ucraina che aveva affamato una popolazione Stalin e per questi risentimenti adesso si Zediecki sta togliendosi la pietra dalla scarp come si dice la vendetta contro l'Ucraina e contro la Russia per gli anni 30 delle purghe staliniane e per la fame che Stalin oltre la fame, le carestie e le fucilazioni che avvenivano per chi protestava contro il popolo ucraino quindi il popolo ucraino si è legato al dito tant'è che quando venne poi durante la guerra Hitler molti ucraini passarono tra le file dei nazisti proprio per un risentimento contro Stalin ma adesso lo stanno notando ce l'hanno nel sangue gli ucraini questo risentimento per i loro avi che hanno subito vessazioni fucilazioni e barbarie da parte della polizia russa agli ordini di Stalin e così Mao Zedonghe e così Koppolpotti in Cambogia comunque sono fanatismi che fanno diciamo rabbrividire fanno venire la pelle d'occa e il fondamentalismo però quello che preoccupa attualmente quello più da tenere in guardia che ci può condurre in una guerra nucleare è quello religioso ecco al momento l'alahan ebraica e la sharia musulmana che si sono contropposti a me tutti e due chiunque ha un fondamentalismo religioso che non ammette anche politico chiaramente che non ammette discussione ma per partito presa e lo è e basta e segue canonicamente le sue direttive fino a essere giustificato perché poi il fondamentalismo religioso giustifica anche le barbarie giustifica quando si è sicuro di non avere una verità tant'è che Socrate diceva già nel V secolo a.C. di fidare di chi ha e chi dichiara che possiede una verità assoluta perché chi ha una verità assoluta in qualsiasi campo campo politico e religioso commette degli omicidi può commettere dei crimini ed è giustificato dalla sua idea quindi come un ebreo può essere giustificato dai suoi patriarchi dalla terra promessa e tenere in condizioni disumane una popolazione come i palestinesi così un musulmano ti può sgozzare in nome di Allah della sua sciaria quindi si sono contrapposti per motivi religiosi due gruppi e che poi gli israeliani sono supportati da noi occidentali che non abbiamo niente a che vedere con questa halakhan con questa sciaria ebraica anzi a dire la verità mi sono antipatici fondamentalisti di qualsiasi religione siano pure cattolica mi sono antipatici antipatici che si creano delle storie la religione deve essere una scelta propria personale non bisogna credere alle storielle che per molti sono storielle per chi ci crede sono scritture sacre e bisogna seguire quindi guardarsi bene da chi è un fondamentalista sia politico ma specialmente religioso per la religione stiamo che non ci interessa ebraica e musulmana stiamo andando incontro non solo una guerra nucleare o un conflitto nucleare o un rischio di un conflitto nucleare ma anche attualmente oggi abbiamo paura di andare in un aeroporto abbiamo paura di andare a Napoli un'altra paura di andare a Roma un'altra a Milano perché può trovarsi una bomba vicino a un obiettivo importante un museo non so vicino a un'ambasciata in poche parole è tutto per il fondamentalismo religioso che bisogna condannare da qualsiasi parte venga quindi non sono né antimusulmano né antisemmita sono antifondamentalista e giustamente dove stanno i fondamentalisti? tra i musulmani e gli ebrei nella maggioranza dei casi credo di essere stato chiaro e vi saluto alla prossima